Lo sapevi che sull'isola di Barbana, in Friuli, Venezia, Giulia, puoi visitare uno dei più antichi santuari mariani del mondo? E che nel Lazio puoi scoprire il regno degli artisti esplorando il borgo di Calcata? E che in Puglia puoi percorrere la valle d'Itria pedalando su un acquedotto? Paesaggi e cammini, natura e sport, arte e sapori. Nel nostro paese c'è sempre qualcosa che ancora non conosci. Scopri l'Italia che non sapevi. Grazie.